Buongiorno Non è nemmeno diciamo pomeriggio e sera In ogni caso dico buon pomeriggio Perché da mezzogiorno in poi Io so che si dice buon pomeriggio Quindi buon pomeriggio Mister, master, maestro Oh semplicemente Oh semplicemente David Lynch It's January 23 2022 It's Sunday Faccio una collezione Ieri ho detto Sunday Ma ovviamente era Saturday Anyway, ieri in Nipols 53 53 e mezzo Era 12 Celsius Sì, è quella giornata Veramente, veramente Veramente, veramente fredda In questi giorni, in questo periodo Ma vi invito sempre a vedere il mio video Sul freddo Che ho fatto qualche settimana fa Per capire quali sono le due pratiche Che utilizzo per combattere Appunto, non per vincerlo Come dico sempre Perché è impossibile Ma quantomeno di combatterlo E poi Vi starete chiedendo da un po' di tempo Perché in effetti Io Indosso spesso La maglietta a mezzo La maglietta a mezzemaniche bianca Perché è un altro dei metodi Che utilizzo appunto Quello di utilizzare Molto più possibile Meno pane O comunque panni leggeri Per qualche ora Per non soffrire il freddo Io infatti La maglietta a mezzemanica Tengo per diverse ore Diciamo In genere Sono veramente poche ore Con il maglione O con gli altri vestiti Circa dieci ore Ma è veramente poco Quindi sì Per questo la indosso Indosso spesso La mantengo Diciamo per diverse ore Dopo Sì per diverse ore Quindi Un'altra dell'età Dei metodi Che utilizzo Per combattere il freddo Anche se in fondo Già all'interno Delle due pratiche Che utilizzo Perché il fatto di Stare quanto più possibile Senza vestiti Rientra In una delle due pratiche Di cui ho parlato Ma comunque Invito sempre a vedere il video E metto in descrizione La scremmata finale Anyway Suggest Sì From window Today We have We have Once again Anche se non si vede adesso Il sole Ma apparirà Tra qualche ora Alla dietro Those beautiful Blue skies Really beautiful And golden sunshine Really golden Anche se ho detto Apparirà più tardi All along the way Qua già comunque È la mezza Quindi Per qualche altra ora Rispetto in America Ma altre parti Ma comunque È bene così Speriamo di continuare Con questo trend Questo è il secondo giorno consecutivo Se non erro Dopo lo stacco In cui non l'abbiamo avuto Per altri due giorni Sì Said this So From the mythical window With the colored curtain Sublime oggi Non ha da dire And it and finally from my mythical keyboard Yamaha Digix 640 IPG IPG 625 have a great day in all the people of all of the channel and the reports un saluto davanti a tutti e mi raccomando il video sui pensieri è separato da questo so have a great day in all these people and everyone too mi scuso se è accelerato poi sul è anche questa voce un po' più bassa ho abbassato la voce perché purtroppo non posso fare più di così oggi ma se ho tempo domani spiegherò perché c'è un'altra persona diciamo un'altra stanza quindi questo have a great day